Che cos'è una banca del tempo? Una banca del tempo è un particolare istituto di credito dove si scambia tempo e non denaro. Vediamo un esempio. Roberta si reca per la prima volta in una banca del tempo. Lei è studentessa con alle spalle una grande e numerosa famiglia e darebbe volentieri un po' del suo tempo per fare la babysitter. Claudia, che ha studiato ed ora è avvocato, spesso si ritrova nella situazione di non sapere a chi affidare i propri figli. I loro bisogni e disponibilità si incontrano alle banche del tempo. E non solo le loro. Infatti, Claudia aiuta Giorgio con un parere legale sulla sua nuova attività di vendita online. Giorgio, che ha esperienza di manutenzione del verde, aiuta Anna a potare i suoi alberi ed Anna prepara una torta per la festa di compleanno di Roberta. Nelle banche del tempo, due ore impiegate a tagliare un albero valgono quanto due ore passate a cucinare una torta. E non ti preoccupare se per caso il tuo conto va in rosso. In una banca del tempo non vale il tempo conteggiato, ma quello condiviso.